Il clima che si respirava questo fine settimana alla caserma Paolini per Io c'ero, la donata degli ex commilitoni alla sua seconda edizione, era un po' a metà strada tra la scampagnata scolastica ed il film di Alvaro Vitali, con gli ex militari ancora con la stessa voglia di farsi gli scherzi e riderci sopra che avevano al tempo del loro passaggio alla Paolini, anche se né il fisico né l'età nagrafica ormai sono più quelli. Il clima è stato però subito rispolverato dal San Costanzo Show anche attraverso un film cult dell'epoca, La Soldatessa, alle grandi manovre. La presenza però, oltre che degli ex commilitoni anche delle loro famiglie, moglie e figli al seguito, dimostra quanto sia forte tra di loro il legame, oltre che con chi ha condiviso quel forzato periodo al servizio dello Stato, anche con i luoghi che li hanno ospitati, magari ricordati più e più volte nei racconti di quel periodo della loro vita. Il corso, la pizzeria che magari ora non c'è più, il bar dove si passavano le poche ore di libera uscita. Quindi è un momento anche per promuovere Fano, ma a me piace dargli anche una duplice valenza, anche quella quindi del ricordo, del rivivere delle emozioni, di vivere la città, ma anche quella di ricordare chi rappresenta, chi porta una divisa, le forze armate, tutti coloro che negli anni, nel tempo, in tempo di guerra, in tempo di pace, attraverso il loro servizio hanno fatto un sacrificio per noi. Una giornata quindi in cui la caserma Polini si è riappropriata della sua reale dimensione, come anche chi l'ha vissuta dall'altra parte della barricata, ovvero con chi la comandava, il cui ritornare in certi luoghi ha scatenato un vortice di emozioni e ricordi. Sono ancora a Fano per cui qualche volta ci vengo, anche se mi dà un po' di tristezza quando entro, che ci sono le macchine, non ci sono più i giovani di una volta, però è una struttura che anche se vuota è accogliente e fa piacere che queste occasioni vengono parecchi a rivedere un po' i momenti della loro giovinezza. Il servizio militare era un banco di prova sia per la vita civile che proprio per l'entusiasmo, per la cosa, perché era un periodo spensierato dove la gente sapeva che doveva farlo e se erano, come dicevo sempre io, bravi ragazzi, il periodo del servizio militare era una vacanza, perché il lavoro sarebbe arrivato dopo, le responsabilità sarebbe arrivate dopo. In quel momento che stavano qui non potevano avere responsabilità, c'era solo il tempo di fare amicizie e fare il proprio dovere per la patria.